Ciao a tutti, ecco un test per capire se ti ama veramente. Allora, devi rispondere a queste dieci domande che hanno ognuna di queste a tre possibilità di scelta. A, B, C o prima, secondo, terzo. Quindi tu ascolta le domande e poi rispondi e vedi come vanno le risposte. Allora, la prima domanda è eravate amici prima di mettervi assieme? Le tre possibili risposte sono sì, ma non a lungo, giusto il tempo di conoscere le cose più importanti. La seconda è sì, un'amicizia di vecchia data. La terza è non lo conoscevo neanche, o non la conoscevo neanche. Seconda domanda è, quando ti bacia, com'è? È romantico e ogni volta che ci baciamo ci dimentichiamo tutto quello che ci circonda. La seconda possibilità è ci baciamo come se il mondo finisse questa notte. La terza, ci baciamo poco. Allora, la terza domanda è questa. Lui o lei ti abbraccia? Prima opzione, sì, sempre. Seconda opzione, qualche volta. Terza opzione, mai, raramente. Quarta domanda è la seguente. Uscite di frequente. Le tre opzioni sono passiamo abbastanza tempo insieme. Siamo sempre continuamente assieme e la terza è raramente. Poi passiamo alla quinta domanda. Quanto spesso ti dice che ti ama? Prima opzione, spesso. Seconda opzione, ogni tanto. Terza opzione, mai. Veniamo alla sesta domanda. Quando vi parlate, vi guardate negli occhi, vi date la prima opzione. La seconda, vi date uno sguardo di tanto in tanto. La terza opzione, non vi guardate o vi guardate raramente. la settima domanda. In quale occasione non dimentica mai di farti un regalo? Per il compleanno anniversario, per il compleanno anniversario, la seconda non fa mai regali e la terza, la terza è si dimentica spesso e me li fa magari in un secondo momento. L'ottava domanda è com'è fare l'amore tra voi. Prima è risposta e c'è molta attrazione. Seconda, prende lui più spesso l'iniziativa e la terza opzione è normale e tranquillo. La nona e penultima domanda è questa. Cosa pensa, che rapporto ha con i tuoi genitori? Un rapporto cordiale, ma cerca di mantenere un po' le distanze. La seconda cerca di vederli il meno possibile e la terza non ne vuole sapere. La decima e l'ultima domanda è questa. Ti fa spesso, cioè come ti vede, come ti vede fisicamente, come che ti fa spesso dei complimenti fisicamente? Allora, la prima risposta mi fa spesso complimenti sia in presenza di altri sia da soli. Mi fa solo complimenti in presenza di altri, non mi fa mai complimenti. Ecco, quindi adesso tra tutte queste risposte prendete in considerazione soltanto l'opzione 1. Quindi quante volte avete scelto l'opzione 1? Se avete scelto l'opzione 1 da 7 a 10 volte, l'altra persona ti ama e c'è un amore solido tra voi. Se avete scelto l'opzione 1 tra 4 e 7 volte, il 7 escluso ovviamente, è un amore che è freddo, poco passionale. Al di sotto di 4 non c'è amore praticamente, non serve meglio lasciarvi. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti a questo canale YouTube e al mio nuovo canale di cui ti lascio il link in descrizione. Ciao a tutti!